Il gioco del silenzio è ufficialmente finito. A sfogarsi con un lungo post su Facebook dopo la condanna a due anni è Sergio Staderini, ex presidente di Coingas e protagonista dell'inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio di 11 nomi eccellenti della politica retina, tra cui il sindaco Alessandro Ghinelli. Dal primo giorno in cui è iniziato questo calvario, scrive Staderini, ho dovuto chinare la testa ed attendere il giorno in cui avrei potuto rialzarla e tutta la mia famiglia con me. È stato imbarazzante cercare di sopravvivere tra le congetture di chi non mi conosce e si fa abbassare due titoli di giornale per definirmi. Poi Staderini passa all'attacco, mi hanno definito pentito e io voglio spiegare che sì, mi ci sento, ma solo nell'accezione in cui sono pentito di aver avuto a che fare con questi soggetti che hanno il gran merito di aver infangato il mio duro lavoro, portato avanti con grande dedizione. Il mio grande errore è stato quello di fidarmi e la fiducia mal riposta si sconta in tanti modi. Ed infine la conclusione con le parole rivolte al sindaco Ghinelli. Nonostante questo intendo presenziare a tutte quelle occasioni in cui sarà richiesta la mia persona nell'intento di continuare a collaborare con la giustizia senza vergogna e nei pietismi perché le responsabilità sono fatte per essere assunte in prima persona e a nulla serve inviare note scritte. Anche io so quello che è stato fatto e non fatto quel che è stato detto e non detto e presto mi rincuora. Conclude Staderini, lo saprete anche tutti voi.